Gohan raggiunge gli amici per fare un picnic nel bosco, portandosi dietro in uno zaino più grande di lui tutto l'utile per il campeggio, una montagna di libri di scuola, ma durante la notte un misterioso oggetto piovuto dal cielo scatena un incendio nel bosco, così Gohan e Krilin cercano di spegnere le fiamme con l'energia spirituale, riuscendoci dopo ben un quarto d'ora di urla e grida disumane, inspiegabile come le fiamme le abbiano spente senza spazzare via tutto il bosco. Comunque del suddetto non è che ci sia rimasto granché, e quel che è rimasto è tutto sbruciacchiato, perciò radunano le sfere per chiedere al drago di ripristinarlo bello e rigoglioso come prima, operazione che di solito richiede mille e mila puntate, ma nei film bastano sempre una manciata di secondi. Dopo questa brutta esperienza Gohan diventa amico quasi inseparabile di un draghetto obeso al quale aveva salvato la vita, ma ci penserà l'apprensiva chicchi a separarli, perché col caratterino che ha figurati se si prende una bestia simile in casa, dato che in casa di bestie c'ha già suo marito Goku. Una misteriosa squadra di alieni ecologisti però sbarca sul pianeta, e senza chiedere il permesso a nessuno, piantano un seme dalla crescita ultra rapida, dal quale sbuca una pianta gigantesca con radici talmente grandi e potenti da radere al suolo intere città. È il temibile albero dell'energia, che per maturare i suoi prodigiosi frutti risucchia tutta l'energia del pianeta dove cresce, riducendolo ad un arido deserto. Recaio quindi allarma i nostri amici che si recano tutti sul posto, dove i mascalzoni spaziali li attendono. Tutti si guardano in cagnesco per 5 minuti, poi iniziano i combattimenti, e gli alieni sono composti da questi singolari individui, i due gemelli in anerottoli le Zune e la Kasei, un tizio con un nome davvero immondo, infatti si chiama Amondo, un tizio taciturno di nome Kakao, anche se è praticamente un mix fra un robot da cucina e una ciccala fragola già masticata, e Daizu, un tizio che invece parla anche troppo. I nostri si dividono per affrontare ognuno un avversario, ma alla fine questi sono troppo forti e verranno comunque tutti sconfitti da Goku. C'era però un altro uomo, il loro capo, un Saiyan di nome Tarles, che è praticamente identico a Goku. Per primo si imbatte in Gohan, che minaccia perché si unisca a lui, ma quando il bambino è minacciato compare da nulla la sua balia verde, piccolo, che stavolta però non ci fa una grandissima figura. Colpo di scena, a Gohan è rispuntata la coda, così Tarles crea una luna finta e costringe il bambino a trasformarsi in uno scimmione gigante incazzato e impazzito. Goku cerca di fermarlo, ma suo figlio in quello stato non può riconoscerlo e così lo stritola, facendoci scoprire che Goku ha un'estensione mandibolare che dà la merda a quella di Pitoni qualsiasi giorno della settimana. Per fortuna però arriva il draghetto obeso e Gohan, riconoscendolo, ridiventa subito calmo e mansueto. Ma come? Il draghetto conosciuto ieri sì e suo padre no. E questa, amici, è la terza storia triste di Goku. Siccome però il malvagio Tarles è anche un pomposo idiota, li colpisce, così Gohan si rincazza e se la prende con lui. Goku però gli taglia la coda. Allora sei deficiente. Finalmente quindi avremo lo scontro fra i due quasi gemelli nati però da madri diverse, o almeno presumo, e Tarles incomincia subito a fare il gradasso, vantandosi di essere molto più forte di Goku perché lui mangia i frutti dell'albero da sempre, anche se sono delle schifezze inguardabili che non appaiono minimamente invitanti né tantomeno commestibili. Per dimostrargli le loro qualità ne mangia subito uno e lo sfracazza di legnate. Nemmeno il Kaioken sembra essere efficace contro Tarles e Goku finisce massacrato. Ma scusa ma non può mangiarsi dei frutti anche lui? Boh vabbè. I suoi amici intervengono nel momento del bisogno e attaccano il nemico tutti insieme per dare a Goku il tempo di riprendersi e raccogliere tutta l'energia rimasta al pianeta per sferrare una Genkidama che distrugge sia l'albero che il nemico, riportando addirittura la terra allo stato iniziale di verdissima rigoglitudine. I che però non dovrebbe avere molto senso perché l'albero era pieno di frutti e avevano detto che per maturare questo avrebbe inaridito e desolato il pianeta, da dove l'ha pescata l'energia Goku per poterlo distruggere e poi perché una volta distrutto l'albero tutto ciò che era stato consumato è ritornato come era prima. Che cazzo di stronzata è? C'è poi la solita risata finale del tutto a caso ma l'unico che tiene il broncio è sempre piccolo, specialmente in questo film dove ha avuto una parte di poco rilievo e ha fatto pure una bella figuraccia. Fine! Mando come sempre un saluto a tutti i miei patrons e ci vediamo al prossimo video. Ciao!